Vittoria pesantissima ed importantissima quella ottenuta dall'effoggio all'annunzio Fittipaldi di Francavilla e Insigni. I rossoneri hanno superato grazie ad un calcio di rigore realizzato da cittadino al termine della prima frazione di gioco, il Francavilla 0-1. Nel 4-4-2 di Genni del Prete esordio in mediana dal primo minuto per il nuovo arrivato di Hop in attacco invece spazio al tandem composto da nole e puntoriere. Dalla parte opposta al solito 3-5-2 per Nini Corda che davanti si affida alla vena realizzativa di Russo e Tortori dalla panchina invece tedesco. Dopo una prolungata fase di studio è il Foggia a provarci per primo al quarto d'ora con una punizione da posizione defilata di cittadino respinta con i pugni da Caruso. Più ghiotta l'occasione che invece capita sui piedi di Russo dieci minuti dopo. Il numero 11 si libra di un avversario e va al tiro. Palla che complice una deviazione. Colpisce la traversa prima di terminare in calcio d'angolo. Al 47esimo la svolta del match. Punizione di cittadino Diop tocca con la mano ed il direttore di gara non esita a concedere il tiro dagli 11 metri. Dal dischetto va proprio cittadino che spiazza Caruso e porta il Foggia in vantaggio all'intervallo. Nella ripresa il copiore non cambia con poche occasioni da rete e soprattutto tanto nervosismo. A farne le spese è viscome espulso al settantesimo su segnalazione del primo assistente. Complice l'inferiorità numerica il Foggia si copre per affidarsi poi alle ripartenze. 10 giri di lancette più tardi. Il neo entrato tedesco apre per Gerbaulo che calcia. Miracolo di Caruso che respinge. Nelle finale i Lucani provano il tutto per tutto ma senza esito. Vince il Foggia che in virtù di questo risultato aggancia il Bitonto in vetta alla classifica.